C'è un prima e un dopo vaia. L'ondata di maltempo di fine ottobre, in particolar modo nel Bellunese, ha creato una situazione nuova. La furia del vento ha cancellato le terri di bosco e si teme per la stabilità dei versanti. Così la perturbazione di passaggio in questi giorni ha portato con sé a uno stato di attenzione per criticità idraulica nel Bellunese e in generale in tutto il Veneto, Polesine escluso, valido fino a sabato mattina. Stato di preallarme per criticità idrogeologica in tutti i bacini idraulici del Bellunese e rischio valanghe marcato su Dolomiti e Prealpi, dove si sono depositate alcune decine di centimetri di neve. L'assenza di alberi in porzioni estese potrebbe causare distacchi superficiali. La neve depositatasi sull'asfalto e la presenza di raffiche di vento ha comportato la chiusura del passo Valparola con gli altri valichi dolomitici messi sotto osservazione. Intanto è stato pubblicato il del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna le risorse finanziarie per i danni a privati aziende toccati dall'uragano Vaia. Abbiamo lavorato intensamente per portare a casa questo risultato, sottolinea l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. Non era una partita semplice ma ora abbiamo la certezza che la disponibilità finanziaria c'è ed è cospicua. Queste le soglie. Per la prima casa copertura dell'80% su spesa massima di 150.000 euro. Per la seconda casa invece si potrà avere 50% della spesa con lo stesso massimale. Per le imprese ristrutturazioni coperte fino al 50% con un massimale di 450.000 euro, 80% per il ripristino di impianti o strutture danneggiate.